E' di nuovo stallo nei colloqui tra Unione Europea e Regno Unito per l'accordo commerciale post-Brexit. Come negoziatore dell'Unione Europea, la mia responsabilità è dire la verità, e la verità è che questa settimana non ci sono stati progressi significativi, ha affermato Michel Barnier. Il principale negoziatore dell'Unione Europea per la Brexit ha dichiarato che il Regno Unito sta facendo marcia indietro sui suoi impegni. Rimangono dei punti critici sulla cooperazione giudiziaria, sul riciclaggio di denaro e sulla cosiddetta parità di condizioni, l'insieme di regole comuni per impedire ai due paesi di danneggiarsi a vicenda in vari settori. Anche l'accesso alle acque del Regno Unito per la pesca sarà oggetto di accesi combattimenti. La posizione dell'Unione Europea richiederebbe davvero una capitolazione da parte del Regno Unito sulla questione della pesca, e questo non accadrà. Questa è una relazione asimmetrica a beneficio delle flotte europee. Alla fine del mese riprenderanno i colloqui di alto livello con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il primo ministro britannico Boris Johnson. Il Regno Unito ha tempo fino alla fine di giugno per chiedere un'estensione del periodo di transizione che lo manterrebbe nel mercato unico e nell'Unione doganale dell'Unione Europea, ma finora Johnson ha escluso questa possibilità.